Ciao, oggi vorrei parlarvi del no contact. Il no contact è un mezzo utile per chi vuole chiudere non solo una relazione con un narcista patologico o con un manipolatore, ma una relazione con qualunque persona tossica nei suoi confronti ovviamente. Quindi è un mezzo che può utilizzare chi subisce l'abuso emotivo di varia natura. È un mezzo che lui può scegliere, che voi potete scegliere per difendervi da chi cerca di abusare emotivamente di voi. Ovviamente ricordatevi che un molestatore, un abusante, un abusatore a livello psicologico cercherà di fare in modo di manipolarvi e gestire lui tutte quante le cose, anche a livello di relazione o di contatti. Lo scopo del no contact quindi non è punire la persona ovviamente, non serve per punire nessuno, ma serve soprattutto per autotutelare chi in questo momento è debole e non ha strumenti che possono aiutarlo a sovraguardarsi, quindi a uscire facilmente da una relazione tossica. Quindi il no contact permette al sopravvissuto, a chi è la vittima di questo abuso emotivo, di crearsi lo spazio necessario e di concedersi il tempo necessario per guarire da questa relazione tossica. Ovviamente è una strategia efficace perché permette proprio di disintossicarsi, di stare lontani e quindi di rinascere. Ma il no contact va fatto in modo totale perché funzioni. Quindi non basta bloccare, se è possibile ovviamente, questa persona completamente sul cellulare, sui social eccetera eccetera, ma fondamentale è evitare anche poi di andare a vedere, sì l'ho bloccato ma vado a vedere cosa fa, vado a vedere cosa fa e magari ci rimango pure male perché vedo che fa dei selfie, delle belle foto con un'altra bella ragazza o con un altro bel ragazzo. Quindi soffro ancora di più. No, il no contact totale è un no contact totale in tutti i sensi. Vuol dire che non solo lo blocco ma evito il più possibile di andare a vedere cosa sta facendo lui in questo momento. È ovvio che il no contact può essere eseguito se non abbiamo dei figli di mezzo, se non lavoriamo allo stesso posto ovviamente. Nel caso ci fossero dei figli di mezzo o lavorassimo nello stesso posto ci sono altre tecniche utili sicuramente che possono aiutare a sopportare e superare il momento di crisi, il momento del distacco da un manipolatore o da qualsiasi persona che ha cercato o ha abusato a livello emotivo di voi. Bene spero di essere stato utile ci vediamo al prossimo video a presto ciao